L'area dove sorgerà la nuova pediatria non ci sarà al vincolo di tutela indiretto. Questo è quanto deciso dalla Direzione Generale del Ministero dei Beni Culturali di Roma. L'altezza dell'edificio, che dovrà sorgere al posto dell'ex pneumologia abbattuta di recente e che ospiterà l'ostetricia e la ginecologia, resterà invariata, ovvero, come da progetto, sarà di otto piani, di cui uno interrato, per un totale di 31 metri di altezza. Quello che ha convinto a non apporre il vincolo è la globalità del progetto inserito nell'accordo di programma del nuovo polo ospedaliero, che prevede anche la realizzazione del Parco delle Mura, con la valorizzazione della cinta muraria cinquecentesca. Rimane il fatto che l'architetto striolo dovrà presentare una nuova versione del progetto definitivo, rivisto secondo i dettami della sovrintendenza, che preveda quindi l'utilizzo di materiali diversi tali da conferire all'edificio un'estetica meno impattante. Una volta avuto il nuovo progetto, si convocherà la conferenza dei servizi per l'approvazione. A coprire l'aumento dei costi, fino a 5 milioni di euro rispetto ai 54 preventivati, sarà la Regione. L'obiettivo rimane quello di aggiudicare, entro la fine del 2020, il bando per i lavori, di quello che è giudicato essere il primo tassello del doppio polo del nuovo ospedale.